Il primo giorno è che non si dorme, non si dorme, non si dorme, non si dorme, non si dorme. Chi si dorme? Buon macchina, buon macchina. Ecco il lavoro. Me l'ai giustato? C'è anche tu al concerto di giustizia di inverno. Ho provato a chiamarla al telefono ma non risponde. Digo, ma che fai? Porto via roba. Guarda che ti tengo d'occhio, sai? Signorina primavera qui e fuori di qui. Mi voglio fare lavorare anche lunedì prossimo, sai? Bu düşünceleri istemiyorum. Sadece bir şafağın. Signor Bartelli l'ho detto a te. L'ho detto qualche cosa, ha? E cose che hai fatto, disastri con spazzatura. Her zaman alacağını bilmek istiyorum. Yaraların yepyeni bir hayata doğrmasını istiyorum. El mundo sta cambiando faccia e dio.